ciao amici amiche for the king per il re sono varie ok per il re apprendista avventura esolitica assolutamente sì e ha partito diamo un attimo questo gioco come funziona allora io ho qui i tre personaggi giocatore 1 giocatore 2 giocatore 3 marco da allora vediamo un attimo come funziona gioco lo stregone è scomparso in periodo mio poi mio marito è stato ucciso nel suo palazzo potresti essere l'ultima speranza che mi rimane la poverina cerca ibra smug a smug a world wood smoke si verrà ok poi allora andiamo allora il punto di movimento percorrere ricorrere ok allora ok 3 4 5 la fa i personaggi si muovono e svolgono i propri turni individualmente quando terminato finisci ok è sempre bello vedere facce nuove che si miscono mi occupo di controllare come vanno le cose ok i vizi puntano a qualcuno di mangiaggio che si è richiesto le miniere scintillanti eh porca cercherò da un modo di portarti raggiungo nel frattempo che è stato arrivato uno strano armese vai a indagare alcuni vizi arrabbiati nella zona che si sono sistemati con il primo problema a combattere ok 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 allora bisogna prego finire il turno finire il turno ok ok giocatore 2 ah li muovo tutti io ok ok combattiamo vediamo com'è allora usa lo slot azione testa sette statistiche ok usa concentrazione che bella legnata che lo si dà valla la 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh no, no. orca 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 e dai oh yeah this is as good or this is something ok this is in the 400 oh oh no no cambio dettaglio vediamo questo ok forca aia 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 raga aia 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 allora diciamo che io dovrei andare qui caspita caspita speriamo che porca no grande wow raccogliamola ok partiamo turno guardiamo guardiamo Sì, 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 sì. Grazie a tutti. 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 C'è un po' troppa gente qua. C'è un po' troppa gente. 4 fps. Grazie a tutti. Informazioni. Grazie a tutti. Ok. Grazie a tutti. Ah, imboscata di un pipistrello, ehi vai, sei colprosciugavita, bellissimo, uuuh, fai tre anche, anche tre volte, anche tre volte, uno di vita, adesso vedrete che mi ammazza, ok, però alla fine non devi darmi sei, dovete darmi tutto completo, ecco, ecco, ecco. Ah, benissimo, benissimo proprio, ah, mi hanno anche bloccato, bella, mamma, con sanguino a me, madonna, che giochi esagerati, c'è anche il, la cosa incredibile, c'è anche, guarda, io faccio uno, e loro fanno tipo nove, dodici, guarda, ah, schivato, almeno guarda, dieci, io faccio uno, e loro fanno dieci, ma anche il fiammato, questo fa dodici, addirittura, poi meno otto e due, sì, dai, lo blocca anche con uno, non blocca anche con uno, fanno un brodo, dai, riditola, guarda, 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 sì, ma è l'inizio della mappa, sì, praticamente, come si dice, eh, purtroppo, o non ho capito proprio il gioco, o è troppo, troppo, lo blocca, allora, all'inizio del gioco diceva che, da te, tra i fili, che, sì, ma anche sanguinamente, anche altre cose, bella bella Eh vabbè, eh vabbè... Dai, uno, uno di vita. Vedete che adesso mi ammazza, guarda, no, 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 verlo, verlo, verlo. L'ho fatta, incredibile. Violino. Bello. Ok. Violino. Ah. Violino. 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 All right. Ah, sei serio? Ho uno o l'altro Ah, questi sono quelli che massacrono, praticamente sono già legato 9 e adesso parte l'altro Ok completamente fregato Ok, morto incredibile dai che li facciamo a pezzi tutti aia oh 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 impossibile vincere impossibile vincere due contro uno e sono fortissimi sono fortissimi oh 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 vabbè dai c'è solo un cretinetto di roba precipitoso 50 incredibile imperforato eeeh si insomma ho perforato da 5 e andiamo perforato anche quello là addirittura addirittura non si può fare nulla non si può rianimare con nessuno non vabbè ebbè certo combattiamo qua c'è certo terzo fall 11 di vita ah benissimo 38 lei 15 e fa 15 di tisano e la prima partita non è andata proprio benissimo Marco Drums Games Channel vi saluto vi ricordo di seguire For The King altri nuovi episodi di questa serie ah vedi si può comprare la roba vedi personaggi la roba in base a quando si sblocca e vi ricordo di seguire su YouTube Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch per le live Twitch e invece per tutto il resto YouTube ciao ragazzi Marco Drums Greciano vi saluto alla prossima For The King ciao ciao